La prima maglia per ora mi delude perché mi sembra un po' troppo bianca, forse ho pantaloncini neri, ci potrebbe avere un po' più di nero, perché mi sembra un po' nero, la nera, la gialla, la blu, ci possono fare. I piattoli non sono molto belle, tutte? Tutte e tre la mia preferita è quella turchese. Per me non piacciono, sinceramente, non mi piace il balconcino. C'è una parte che mi piace è questa fin nero, sia il tessuto che l'abbinamento, mi piace parecchio e secondo me la maglia celeste è un bel colore. Non mi piace troppo la cuscitura che risalta, però è una bella... A me i garbano? Tutte? Quali si garbano di più? Quella gialla. Mi dica più quella classe, ma è una accettabile, dai. La preferita? La preferita sempre quella bianconera, indipendentemente dall'annata. Non bella la prima, molto belle tutte le altre. Quella grigia, quella grigia del portiere fa molto il stile, mi piace. Quella nera è meravigliosa e il cassettone bianconero io lo metterei anche nella prima maglia, perché è veramente bello. Mi piace anche la maglia cinchese, che è molto molto particolare, molto belle, veramente originali, belle, tradizione e innovazione, belle. Non è che mi sembrano delle maglie di particolare né pregio né bruttezza, ma delle maglie che passeranno, insomma. Ci sono state di meglio, ci sono state anche di peggio, con il codice a barre, ci sono state di maglie un pochino più inquietanti. Ma queste sono maglie senza fame e senza lode.